Nonostante le loro perdite, i nostri nemici si attardano ancora nella città di Micaela. Cerca questi Decepticon Superstiti e distruggeli tutti! Avrei tutto a fare. Levo versagli multidi. Controlla su radar sui vicini. Decepticon! Eliminami! Il turno sarà una moglie rapida. Resta in alletta, ce ne saranno altri. Il turno sarà una scicchia. Ynazza, benvi che adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.